Al pilota romano non resta che cercare un'altra strada, che lo porti lontano dalla Lotus che sentiva sua e dall'ossessionante figura del brasiliano. Ho detto ufficialmente ai responsabili della Lotus che non correrò più per loro il prossimo anno, ci lasciamo in amicizia, almeno da parte mia. Nel momento in cui capisce quale ormai è la politica della Lotus a favore di Senna, capisce che lui avrebbe dovuto fare una stagione come secondo pilota, cosa che lui non poteva accettare neanche lontanamente.